Il giorno dopo il risultato il sindaco uscente Raffaele Stancanelli sconfitto alle urne da rivale Enzo Bianco analizza il voto e cosa ha funzionato e cosa non è andato bene in questa campagna elettorale. Ai nostri microfoni le riflessioni di Stancanelli che si dichiara poco convinto dalle tante promesse fatte da Bianco. L'amarezza che ho è che sicuramente per mia responsabilità non sono riuscito a trasferire ai catanesi il tipo di passione, di impegno, di lavoro che ho messo in questi cinque anni per la nostra città, per salvare la città da quella situazione in cui l'ho trovata cinque anni fa. Ci ho lavorato, ci ho messo impegno ma non sono stato bravo a veicolarlo ai catanesi e quindi io penso che questo mi abbia penalizzato molto. E' un risultato che mi vede perdente e quindi non posso che prenderne atto. Cosa si aspetta da questo nuovo sindaco di Catania? Non sono mancati gli attacchi durante la campagna elettorale per le promesse fatte? Possono essere mantenute queste promesse? Questo non lo so, sicuramente io non ho promesso nulla, non ho preso nessun impegno perché io non prendo normalmente impegno, faccio promesse che non posso mantenere. Queste sono le mie caratteristiche, l'ho fatto nei cinque anni in cui ho amministrato Catania con serietà e con rigore, l'ho fatto anche in campagna elettorale. Chi ha fatto promesse elettorali ovviamente si troverà poi a doverne rendere conto alle categorie a cui le promesse le ha fatte, lo vedremo in corso d'opera. Che Catania lascia ad Enzo Bianco? Io lascio sicuramente una Catania con i conti in ordine, abbiamo fatto cinque anni di lavoro serio e rigoroso, lascio una Catania in cui abbiamo attivato tante azioni che aspettavano da tanti anni, il corso martedì già sono iniziati i lavori, il piano regolatore è già definito, basta portarlo in consiglio comunale, il piano della playa abbiamo approvato, abbiamo portato in consiglio comunale, quindi dipende dai privati, la riorganizzazione delle partecipate l'abbiamo fatto, abbiamo trasformato l'AMT in SPA dopo vent'anni, abbiamo iniziato la raccolta differenziata. Sono convinto che sulla base del grande lavoro spesso silenzioso che noi abbiamo fatto, chi amministrerà Catania nei prossimi anni avrà la strada spianata, diversamente da quando iniziato io a fare il sindaco che avevo la insormontabilità dei problemi ma ci ho messo tanta passione per risolverli e dopo cinque anni purtroppo non ho colto i frutti di questo mio lavoro ma se non colgo i frutti vuol dire che ho qualche responsabilità. Solitamente il sindaco che subentra a chi esce cerca di cancellare quello fatto dal processore soprattutto se si tratta di una coalizione politica diversa. In merito alle cose che ha citato lei, PRG, PUA, Corso, Martiri, secondo lei il sindaco Bianco attuerà queste cose, le porterà avanti o vorrà mettere una propria impronta? Non lo so dire, io auguro ai catanesi che si possa proseguire nel lavoro che io ho svolto, io lo auguro, io sono catanese, amo questa città, ci ho lavorato, ci ho messo passione, lo ripeto, mi auguro che Catania possa andare avanti, io non appartengo alla categoria del tanto peggio tanto meglio, io ricordo quando divenne sindaco alcuni oggi sostenitori di Bianco volevano che si facesse il dissesto, io non mi auguravo che si facesse, ci ho messo la faccia e non si è fatto, cioè io non appartengo alla categoria delle persone che parlano sempre male della propria città pur di colpire l'avversario politico, io mi auguro che la città invece vada avanti perché se va avanti la città va avanti un'immagine anche di questa nostra comunità che deve essere riscattata, io in questi cinque anni ho visto molti che parlavano male della città per poter attaccare il sindaco, io non apparterrò a questa categoria.